Ordinanza regionale, dentro 3.000 infermieri, fuori gli studenti dall'università, furti negli asili, ladri al cucciolo e la grande quercia. Aiuti alle imprese, arrivano voucher da 5.000 euro per 22 aziende pesaresi. La vis cambio allenatore esonerato Galderisi arriva di donato. Buona serata, oggi è martedì 3 ottobre, come sempre l'informazione sul canale 633. Questa sera partiamo parlando delle restrizioni che continuano ad arrivare in questa seconda ondata di contagi da Covid. Aspettando ormai l'imminente DPCM del Governo, da domani infatti entrerà in vigore una nuova ordinanza della Regione Marche. Vediamo cosa prevede in questo primo servizio. Oggi si sono svuotate le scuole superiori della provincia di Pesaro Urbino al pari di quelle di tutta Italia. Come imposto dal DPCM del Governo, da questo martedì si è passati alla didattica interamente a distanza, almeno fino al 24 novembre. La Regione Marche però alza il tiro e da domani e fino al 4 dicembre impone la didattica a distanza anche all'università. E' questo uno dei provvedimenti dell'ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Francesco Acquaroli, che tra le varie misure adottate abbassa ulteriormente la capienza del trasporto pubblico locale. Ora gli autobus potranno essere affollati al 50% della loro capienza. Autobus e scuola, due tematiche che si sono costantemente intersecate nel tema pandemico. Ora la Regione pensa anche al rimborso degli abbonamenti. L'assessore ai trasporti Guido Castelli ha infatti già preannunciato di riconoscere un ristoro agli utenti che hanno dato fiducia al trasporto pubblico ma sono stati costretti a non usufruire del servizio. Aspettando il prossimo DPCM ormai imminente, le Marche cercano dunque di arginare il fenomeno in un territorio regionale che il governo non riconosce attualmente fra le zone rosse, quelle a più alto rischio definite sulla base degli specifici tassi di contagi. La Regione però pensa anche ad altre misure. Al vaglio del tavolo regionale resta ad esempio molto concreta l'ipotesi di chiudere i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica per evitare assembramenti. Tutte ipotesi utili ad affrancarsi dai cosiddetti lockdown mirati ventilati dal Premier Conte a seconda delle regioni. Secondo l'ultimo report, le Marche non sono infatti fra le 11 regioni classificate a rischio elevato di trasmissione incontrollata della malattia. Ora si attende il prossimo passo del governo con le ipotesi sempre più concrete di coprifuoco serale e di divieto di spostamento fra regioni. Le Marche però intervengono anche sul fronte sanitario, pronta l'assunzione infatti di 3.000 infermieri. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che ha spiegato come siano state pubblicate le graduatorie del personale infermieristico che sarà chiamato per l'assunzione a tempo determinato per tre mesi. Una volta poi validata la procedura concorsuale si passerà al contratto a tempo indeterminato. Ed ora il consueto appuntamento con gli aggiornamenti dei dati sanitari. Infatti sono 431 i nuovi casi positivi al contagio da Covid-19 rilevati dal servizio sanitario delle Marche. Nelle ultime 24 ore su 2.540 tamponi testati, 1.677 nel percorso nuove diagnosi e 863 nel percorso guariti. Livello di contagi che resta superiore a un tampone positivo ogni 4. Nello specifico sono 48 i nuovi contagi nella provincia di Pesaro Urbino, ben 129 in quella di Ancona. Crescono i ricoverati? Sono 427 in tutta la regione Marche, 53 quelli in terapia intensiva, 119 quelli ricoverati in reparti semi intensivi. Oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha definito la situazione sotto controllo dopo aver visitato l'ospedale San Salvatore e l'ospedale di Galantara. E ieri noi di Rossini TV in diretta vi abbiamo mostrato le immagini della protesta che è stata organizzata da Umberto Carriera contro le restrizioni dell'ultimo DPCM. Questa sera allora vi proponiamo un estratto di alcune interviste realizzate per noi da Marco Cadeddu. È stato un inseguimento, una sorta di caccia all'uomo. I media per fortuna hanno dato molta visibilità alla mia manifestazione pacifica, alla mia protesta e hanno acceso praticamente gli infrettori su quello che è un problema e sarà un problema molto grande, il problema economico e sociale del nostro paese, non soltanto della mia categoria. Umberto, ti aspettavi questa risposta questa sera o sei un pochino deluso? No, sono assolutamente contento di vedere qui ancora centinaia di persone, ripeto, domani uscirà un nuovo DPCM che probabilmente ci rinchiuderà dentro casa o quasi, c'è molta gente che viene da tutta Italia, c'è Giorgio, ristoratore di Bologna, siamo davvero contenti. Senti, però è innegabile una certa spaccatura con i tuoi colleghi qui della città? Sono molto dispiaciuto di questo, ieri ho avuto un incontro con Impasto della Commercio, mi chiedeva di condividere assieme la piazza ma loro sono usciti con un comunicato dove si dissociavano completamente dalle mie forme di protesta e quindi non era assolutamente possibile condividere la piazza. Hai in programma altre azioni? Ci saranno sicuramente altre manifestazioni, sempre in forma pacifica perché bisogna andare avanti, assolutamente, ci sono tante associazioni, tante persone qui che mi appoggiano, ci sono delle maestre, ci sono degli studenti, ci sono imprenditori che non sono soltanto ristoratori, quindi bisogna andare avanti fino in fondo. Hai fatto un appello accorato per i tuoi dipendenti, abbiamo sentito. Questo ti angoscia, come a tanti imprenditori ovviamente? Mi angoscia e non mi fa dormire perché oltre la mia famiglia ci sono, ripeto, 42 famiglie che dipendono da me, che dipendono fondamentalmente dal lavoro. Quello che chiedo, ripeto, non è l'emosina, non è il decreto ristoro ma è semplicemente lavorare. Ci sono DPCM che si sono susseguiti, abbiamo speso migliaia di euro per adeguarci e dopo otto mesi ci dicono di chiudere, è assurdo. Finora in queste dirette abbiamo sempre affrontato i problemi dei commercianti, degli esercenti, delle palestre, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, di tanti coloro che sono rimasti a terra con questi DPCM ma vogliamo anche ascoltare la voce e il grido degli insegnanti, dei maestri, di coloro che adesso sono confinati a casa otto ore davanti a un PC, dico otto ore perché ci sarà anche l'impegno pomeridiano. Jenny, tu hai fatto un accorato appello, se lo vuoi rinnovare alle nostre telecamere. Sì, allora, a nome del movimento La Scuola che accoglie, che è un movimento nazionale, io faccio un accorato appello al Ministero affinché provi almeno a trovare un'ulteriore soluzione, una soluzione che possa riportare i ragazzi in presenza perché pare che ci sia stato tanto lavoro, almeno ci era stato comunicato così, che ci fosse stato tanto lavoro affinché ci potessero essere le distanze, ci potessero essere i presidi in modo tale che i ragazzi potessero andare a scuola. Ora i ragazzi delle superiori, i ragazzi anche degli universitari sono già dislocati a casa. Direi anche che lo sono perché non ci sono organizzazioni precise a livello di trasporto e che quindi ci siano assembramenti alla mattina per quanto riguarda i trasporti è grave perché bisognava pensarla questa cosa, ovviamente era ovvio immaginare che ci fosse stato bisogno di trasportare i ragazzi e quindi richiuderli, pensare alle scuole superiori che hanno laboratori, scuole superiori che insegnano dei mestieri, nella didattica a distanza sembra insomma un qualcosa, ci sembra di ritornare all'inferno che c'è stato in primavera. Ristoratori che protestano, altri che si riorganizzano, uno di questi è lo chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero di Pesaro al quale abbiamo chiesto come ci si può rimboccare le maniche in questo momento così complicato. Il nostro core business è la cena, quindi a pranzo lavoriamo il sabato e la domenica ma diciamo che il cuore è pulsante della cena, ecco dai, dove questa attività si svolge con maggiore successo, però noi abbiamo fatto questa scelta di stare a presto il sabato a pranzo e la domenica a pranzo e il sabato a sera facciamo il delivery. Ho fatto una scelta oculata in modo tale da riuscire a offrire un ottimo servizio, concentrando l'energia sui due giorni e una settimana. Il porto e il delivery sono uno strumento nuovo che si sta cercando di sviluppare, francamente l'esperienza al ristorante è un'altra cosa, però cerchiamo sempre di attraverso i nostri piatti sviluppare una sensazione importante anche a casa, a casa con i clienti. Come ti poni di fronte a queste proteste della tua categoria? Non lo so, faccio il cuoco, non so cosa sia giusto, ci concentriamo sul lavoro, non so a cosa sia corretto o sbagliato, non ho le capacità, gli strumenti giusti per lo giudicare. Ladri scatenati a Pesaro in questi ultimi giorni, questa notte infatti sono stati presi di mira addirittura due asili. I gnoti malviventi si sono infatti introdotti con un'effrazione alla grande quercia di via Leoncavallo in zona Villa San Martino e al cucciolo di via del 1900. In quest'ultimo asilo nido della Celletta sono state messe a soquadro le stanze ed è stato rubato un tablet, più danni e disordine che rifurtiva invece alla grande quercia, che già in altre due occasioni era stato vittima di ladri. Una spiacevole sorpresa per educatrici, bidelle e famiglie che hanno dovuto sgombrare le aule per una approfondita sanificazione. Altro furto di altro genere è quello subito nel weekend al negozio Motor Show in zona Torraccia dove sono state rubate addirittura due moto Kawasaki da 9.000 euro l'una, 54 caschi e tanti accessori per un colpo complessivo di 30.000 euro. I ladri hanno approfittato del giorno di chiusura per caricare tutta la merce in un furgone, approfittando dell'allarme che non era stato inserito. E siamo molto contenti perché c'è anche Rossini TV fra le imprese che forniranno servizi di comunicazione, marketing e pubblicità a 22 aziende del territorio che con i loro progetti si sono meritati un voucher ciascuno di 5.000 euro fornito dal comune di Pesaro per investire appunto in strategie innovative. Ne abbiamo parlato con gli assessori comunali Daniele Vimini e Francesca Franquellucci. Si è compiuto il percorso di questo provvedimento che abbiamo pensato diciamo così in primavera e che voleva essere un aiuto alle imprese, alle imprese del territorio a ripensarsi, a investire nella comunicazione e anche nel sapere appunto raccontare meglio i propri progetti e poterlo fare facendo lavorare altre imprese del territorio. Quindi questi 110.000 euro che provengono da finanziamenti europei siamo riusciti a metterli a disposizione completamente delle imprese che hanno presentato dei progetti e quindi dai 5.000 euro per ogni singolo progetto che sono stati approvati per un totale di 22 iniziative e questi stessi porteranno beneficio alle imprese che hanno individuato il modo migliore per raccontare la propria attività ma anche per le imprese sempre nel sede di Pesero che hanno potuto partecipare come fornitori. Ci è compilato prima un albo fornitori poi un albo di progetti, ora completata la validazione abbiamo 22 piccoli progetti che però rimettono in moto risorse economiche, lavoro e quindi anche possibilità di ripensarsi in particolar modo in questo momento dove l'emergenza del Covid, molta attività spostata nel digitale in generale anche una necessità che c'era comunque di migliorare la propria veste comunicativa potrà aiutare tante imprese anche piccole che magari da sole non avrebbero deciso di fare questo passo. Questi voucher da 5.000 euro sono una bellissima risposta verso le aziende, le aziende che hanno sofferto e anche una risposta diciamo all'opposizione che magari ha criticato nei giorni scorsi anche in Consiglio Comunale la redistribuzione degli altri bonus, quelli relativi a bambini, spesa e aziende colpite e invece sono proprio alcune delle aziende colpite che beneficeranno di questi voucher. Sì esatto perché questa opportunità in più, perché oltre ai 100.000 euro che diamo tramite il bonus da ieri possono fare le domande le imprese, oggi è uscita la graduatoria di altri 110.000 euro da poter usufruire quelle imprese che hanno partecipato al bando che abbiamo lanciato quest'estate quindi siamo contenti e soddisfatti. Visto che viene citata l'opposizione mi sento di dire che non è assolutamente il momento di soffiare sul fuoco dobbiamo essere uniti e pensare che le difficoltà le conosciamo tutti, siamo consapevoli però siamo tutti pronti e lo vedete anche in queste azioni concrete che stiamo facendo perché capiamo le difficoltà che stanno attraversando i cittadini e le imprese del nostro territorio. E proprio i pubblici esercizi, alcuni dei più penalizzati, alcuni tra quelli che stanno scendendo in piazza sono appunto fra le tipologie che beneficeranno di questo voucher. Sì, esatto, questo voucher questa mattina ho visto nella Determina dalla graduatoria sono molto soddisfatta perché si vede che hanno vinto questi 5.000 euro di voucher sono attività che riguardano bar, ristorazione, artigianato cioè quelle attività che sappiamo ad oggi sono in difficoltà per le restrizioni del DPCM. E adesso in questa prossima intervista riascoltiamo l'assessore Franco Ellucci perché il Comune è pronto a dare agevolazioni anche all'accesso alla ZTL come ci spiega appunto l'assessore in questa intervista. Anche oggi in giunta l'assessore Belloni, in condivisione ci siamo confrontati giorni scorsi è stata presentata la delibera dove appunto nelle zone ZTL diamo un ulteriore aiuto a tutte quelle imprese che devono fare consegne a domicilio o da asporto e quindi potranno avere il permesso tramite i vigili urbani gratuitamente per tutto il periodo che hanno le restrizioni dovute al DPCM. La CNA di Pesaro Urbino attraverso una nota arrivata in redazione si dice estremamente preoccupata dalle indiscrezioni filtrate su alcuni provvedimenti contenuti nel DPCM che si appresta a varare il Presidente del Consiglio. La preoccupazione relativa soprattutto a una stretta sul settore dei servizi a cominciare da parrucchieri ed estetisti. CNA ricorda infatti come questi artigiani abbiano rispettato in maniera sistematica e continua i protocolli di sicurezza, non rappresentando mai una fonte di contagio. Il servizio di vigilanza privata Vigilar sta inviando in questi giorni una comunicazione ai propri clienti titolari degli esercizi commerciali maggiormente coinvolti dall'ultimo DPCM nel quale comunica la sospensione del canone mensile per il periodo di fermo dell'attività pur continuando a garantire i servizi di videosorveglianza. Il fondatore titolare di Vigilar Alessandro Giuliani spiega come questo provvedimento voglia essere un segnale di vicinanza ai clienti, la sicurezza è un diritto di tutti ancor più in periodi come questi dove gli episodi di furti registrano un aumento sia nelle abitazioni private che nei siti produttivi e commerciali. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva annunciato la settimana scorsa come il prossimo Natale non ci saranno mercatini o spettacoli nel centro storico ma sarà comunque una città bellita e illuminata. Decorazioni cominciate di fatto oggi con l'arrivo in Piazza del Popolo del tradizionale abete natalizio. Un arrivo che c'è stato documentato con questo video da un nostro attento telespettatore che chiaramente ringraziamo. E allora grazie a questo telespettatore che prontamente oggi pomeriggio ci ha mandato sul numero che vedete qui in sovrimpressione di Whatsapp questo video che ritrae appunto l'abete che si appresta a giungere in Piazza del Popolo a Pesaro ma abbiamo un'altra segnalazione di una nostra telespettatrice. Le immagini che vi mostriamo sono state girate sotto il ponte di Soria sul greto del fiume Foglia come si può vedere da qualche settimana alcuni lavori alle tubature hanno provocato un profondo cratere e un fossato che si dirama fino al fiume interrompendo di fatto il sentiero ma anche l'accesso alle imbarcazioni ormeggiate fra i due lati del ponte. Non è l'unico problema del ponte perché come si vede da quest'altra foto la struttura mostra il cedimento del pannello cedimento sul quale gli stessi tecnici comunali hanno già assicurato un intervento in tempi celeri. Ed ora l'appuntamento con lo sport. 24 ore dopo il Fano anche la Vispesaro ha deciso di cambiare allenatore. Vediamo tutto quello che riguarda appunto questo cambio nel servizio di Daniele Sacchi. Esonerato dopo una vittoria. Un caso più unico che raro ma è successo questa mattina all'allenatore della Vispesaro Giuseppe Galderisi. Il 57enne tecnico bianco-rosso è stato sollevato dall'incarico dopo 48 ore di riflessione approfondita da parte della società dopo la vittoria sul gubbio. Il nuovo allenatore sarà l'ex Arzignano Arezzo e Trapani Daniele Di Donato. Galderisi viene esonerato dopo che domenica aveva centrato l'obiettivo settimanale battere il gubbio ma quanto pare non stava centrando le prospettive a lungo termine quelle di una visse ancora troppo indietro sul piano del gioco dove stava denotando più passi indietro di quanti ne mostrasse avanti. La società ha dunque visto nella vittoria sul gubbio estremamente episodica e accompagnata dalla fortuna una sorta di polvere messa sotto il tappeto. Si decide di cambiare. Esonerato Galderisi e con lui anche l'allenatore in seconda Daniele Cavalletto. Si conclude dunque nella maniera più strana un'esperienza anomala fin dal primo giorno. Galderisi arrivò infatti a Pesaro lo scorso febbraio subentrando all'esonerato Simone Pavan. Fece in tempo a giocare una partita e a conquistare un pareggio con la fermana che di fatto valse una stagione perché di lì a poco esplose la pandemia, il campionato andò in archivio con la cristallizzazione della classifica e quel punto di fermo fu decisivo per la salvezza. Dopodiché un lungo periodo di incertezza con il lockdown vissuto in gran parte a Pesaro dove il 3 agosto è tornato in campo per preparare una stagione che otto giornate dopo è stata reputata al di sotto delle aspettative estive. Galderisi dunque lascia la vis dopo due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il nuovo allenatore sarà Daniele Di Donato. Ex centrocampista con trascorsi anche in Serie A, Di Donato in questa stagione era finito sulla panchina del Trapani dove però non ha neppure cominciato il campionato a causa dei problemi finanziari che hanno affossato il club siciliano. In precedenza Di Donato è stato allenatore della Iesina dell'Arzignano con cui ha vinto una storica Serie D due stagioni fa mentre lo scorso anno ha vissuto la sua prima esperienza in Serie C alla guida dell'Arezzo dove era stato già da calciatore. Curiosità? La vis cambia allenatore a nemmeno 24 ore dall'analogo rovesciamento tecnico avvenuto nei Cugini del Fano dove ieri è stato esonerato Marco Alessandrini dopo cinque sconfitte consecutive e la squadra è stata affidata all'ex fermana Flavio Destro che oggi ha diretto il suo primo allenamento. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo la programmazione su Rossini TV di questa sera alle 21.15 e in replica alle 22.30. Vi mostreremo il nuovo calendario 2021 presentato da Midor. E poi vi ricordiamo anche l'appuntamento del nostro nuovo programma insieme a Canestro giovedì alle ore 21.15 la seconda puntata e qui di seguito tutte le repliche. Mentre io adesso vi lascio in compagnia del meteo per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni e vi ricordo l'appuntamento con l'informazione che arriva domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra Rassegna Stampa. Buona serata.